Grazie a tutti per questa mattinata importante per il nostro paese, per le imprese italiane e complimenti e congratulazioni davvero per la firma tra Icigenzia e Alibaba. D'altronde la nostra strategia sull'Asia è da tempo consolidata, guardiamo a questa regione del mondo con occhi sempre più attenti e i dati che abbiamo ogni giorno anche dall'Istat ci certificano che la direzione è quella giusta. Non in ultimo la recente firma dell'accordo dell'Arcep tra Cina e altri 14 paesi nella regione dell'ASEAN ci dice tanto delle potenzialità che quella grande fetta di mondo che segna più di un terzo della popolazione mondiale ci può dare. Abbiamo d'altronde recentemente anche raggiunto l'obiettivo di diventare partner di sviluppo dei paesi ASEAN anche e questa combinazione di eventi fa sì che accordi come questo siano sempre più importanti per il nostro sviluppo in quella regione. È un accordo pioneristico, ne avete già parlato tanto e poi presenteremo nel dettaglio la vetrina di cui stiamo parlando ed è un accordo che secondo me è anche frutto di una strategia precisa che nasce dall'ascolto, lo dico sempre in questi tavoli che stiamo facendo da tempo, ormai quando in piena crisi durante la primavera scorsa si è deciso di trovare una nuova strategia lo si è fatto convocando 14 tavoli con tutte le associazioni di categorie italiane, dialogando e creando il famoso ormai patto per l'export. Proprio in questi giorni stiamo facendo i nuovi tavoli perché l'intenzione è di mantenere aperto questo dialogo e quindi un'altra tornata di tavoli per aggiornare il piano e per prevedere i nuovi strumenti per il futuro, però è importante dire una cosa che come diceva il Ministro Di Maio l'accordo in questione rientra nel pilastro di commerce che è uno di quelli forse più importanti della strategia del patto per l'export e questo pilastro vede proprio nel B2B, infatti ci sono anche altri progetti di ICE sul B2B nello specifico un suo tassello principale perché l'Italia chiaramente ha la capacità di servire sia il B2C ma anche il B2B dove in alcune regioni del mondo c'è una grandissima richiesta di prodotto italiano. Il rilevo del digitale è così importante che non include soltanto l'e-commerce ma anche un altro progetto di cui siamo molto fieri che i digital manager, quindi la possibilità che daremo alle aziende tramite degli accordi fatti con le università italiane di formare imprenditori digitali che sappiano quindi essere sui mercati del digitale e li vogliamo anche aiutare sul lato della finanza e infatti il fondo di Siemens, il 39481, è stato modificato prima del rifinanziamento per permettere ad esempio la creazione anche di magazzini destinati all'export perché sappiamo quanto sia importante la logistica dietro la presenza sui portali dell'e-commerce e del B2B. Tutto questo vede ancora una volta una squadra nuova in termini temporali ovvero l'interazione diretta adesso tra Farnesina, ICE, Simest, Sace e tutto il sistema paese che vi ruota intorno una squadra che dal mio punto di vista sta funzionando e per cosa della quale dobbiamo felicitarci e per questo ringrazio tutti. Tanto faremo ancora su questo settore il progetto appunto del padiglione tutto italiano di Alibaba è sicuramente un buon punto di partenza perché secondo me ancora tanto dobbiamo fare su questa strada per implementare questa possibilità e ci darà una cosa su tutte, la possibilità di promuovere in modo molto più efficace perché avremo tutto in un unico store italiano per i buyer internazionali. I numeri sono impressionanti, sono stati già detti dal dottor Rodrigo in apertura e quindi senza perdere ulteriore tempo è con immenso piacere che osserveremo adesso la presentazione del pavilion del Made in Italy su Alibaba perché sarà l'inizio di un grande percorso per le nostre aziende sull'e-commerce. Grazie a tutti.